20 miliardi delle vecchie lire investite negli anni nel porticciolo di Campomarino e la struttura non è ancora pronta. Inaugurato nel 2001 è stato il primo approdo per imbarcazioni da Di Porto del Molise, prima ancora di quello di Termoli, di Montenero di Bisaccia. Si estende su una superficie di 22 ettari, una delle più grandi del centro-sud. E si potrebbe dire che è nato sotto una cattiva stella, considerate le fasi alterne vissute negli anni e le indagini della procura di Larino sulla Skanderberg, l'ultima società che l'ha gestito prima che passasse sotto il controllo del comune. Ma secondo la Lega Navale di Campomarino è un'area che ha molto da dare, turismo, sviluppo, economia, nuovi posti di lavoro e per questo i componenti dell'associazione auspicano che un privato si renda conto delle potenzialità dell'approdo investendo risorse fresche. Almeno 5 milioni di euro servirebbero, ma l'obiettivo è anche quello di sbloccare l'ultima tranche di fondi pubblici di 3 milioni e mezzo di euro, fermi in regione ormai da tanti anni. I problemi da affrontare sono diversi, dall'insabbiamento che si risolverebbe con interventi periodici di dragaggio come avvengono in tanti altri porti, al completamento delle opere già iniziate, in grado di dare un'offerta completa agli utenti, dal gasolio per le barche ai servizi in genere per i diportisti e perché no a un bar, un ristorante e tutte quelle attività commerciali che possono girare intorno a un porto turistico. I soci della Lega Navale credono nelle potenzialità della struttura che, a loro dire, potrebbe diventare la perla dell'Adriatico e chiedono all'amministrazione comunale di accelerare le pratiche per pubblicare il band europeo con l'obiettivo di trovare un partner a cui affidare il rilancio del porticciolo.